Battipaglia marcerà per la settima giornata mondiale delle bambine e delle ragazze domani, giovedì 11 ottobre alle ore 16 con partenza da Piazza Aldomoro. L'11 ottobre, il commento della sindaca Cecilia Francese, vogliamo dimostrare che Battipaglia c'è contro ogni forma di violenza e discriminazione di genere. Al termine della marcia le scuole di danza si esibiranno in un flash mob in arancione.